A città di castello, i ristoranti, i bar, le attività per il commercio e la somministrazione degli alimenti che apriranno nei giorni festivi, beneficeranno nel 2023 di uno sconto del 70% sul canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico. Obiettivo è implementare i servizi che la città offre ai turisti, in modo che chi arriva nel territorio per ammirare i sottisoni culturali, artistici, storici e paesaggistici trovi ad accoglierlo non solo le strutture espositive e le manifestazioni pubbliche, ma anche un'ampia possibilità di trattenersi per un pasto e un caffè, guardando alle esigenze di tutti i viaggiatori, in particolare alle famiglie. Oltre alle domeniche, le festività considerate sono il 1 gennaio, l'Epifania, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo, l'anniversario della liberazione del 25 aprile, la festa del lavoro del 1 maggio, la festa della Repubblica del 2 giugno, Ferragosto, la festa di Ogni e Santi del 1 novembre, la festività dei Santi Flori da Manza del 13 novembre, l'Immacorata Concezione dell'8 dicembre, Natale Santo Stefano. Gli operatori dei pubblici esercizi che aderiranno all'egevolazione saranno tenuti ad aprire per un minimo di 8 ore, nella fascia orale che va dalle 7.30 alle 22, per la quasi totalità delle festività in calendario. Potranno infatti derogare alle aperture domenicali e festive previste per un numero massimo di giornati parla di 10% nel periodo che va dalla sottoscrizione dell'impegno fino al 31 dicembre. La riduzione di cui potranno beneficiare decorrerà dal momento dell'adesione attraverso la compilazione di un modulo che potrà essere scaricato dal portale del Comune. Il taglio del 70% dei canoni sarà applicato fino a un massimo di 50 metri quadrati di occupazione del suolo. La restante superficie nella disponibilità dell'attività sarà soggettata al pagamento del canone alla tariffa ordinaria prevista.